Buonasera Fabio, conferenza post gara, post Foggia Valermo 2 a 0, vittoria importante e meritata, quella del Foggia, giocata oggi su un campo reso difficile dalla copiosa pioggia caduta da questa mattina allo stadio. La prima domanda è un'analisi, insomma, a 360 gradi, che gara è stata? È stata una gara in cui il Foggia ha dimostrato di voler vincere a tutti i costi, ha voluto vincere a tutti i costi il Foggia, ma per due semplici motivi. Il primo, quello più importante, è per dedicarla a Federico, il nostro capitano, che è chiaramente, come sappiamo tutti, in un momento un po' complicato, e quindi ci tengo a dedicarla a lui, a sua moglie, Alessia, alla sua famiglia e la squadra ha voluto mandare un segnale forte anche a lui e sono contento che ci siamo riusciti. Per quanto riguarda la prestazione, sono convinto che il Foggia oggi ha messo in campo quelle che devono essere le sue armi, che sono quelle di compattezza di squadra, che sono di spirito, di sacrificio, e dopo oggi, onestamente, anche su un campo difficile abbiamo fatto, secondo me, anche una buona partita a livello tecnico, quindi sono contento, siamo soddisfatti dopo una settimana che finalmente siamo riusciti a lavorare tutta la settimana col mister, quindi sono convinto che questa sia la strada da seguire. Tiziano Enriquello di Teleblu dice Una prestazione senza sbavature difensive, ma soprattutto un Foggia che non ha sbagliato nulla e che ha meritato la vittoria. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo, non abbiamo commesso errori, abbiamo rischiato magari in un paio di situazioni, però avevamo di fronte una squadra forte, che arrivava in un momento molto positivo, quindi sì, concordo, ha vinto secondo me la squadra che ha voluto vincere questa partita e non è scontato. Domenico Carella del Corriere Mezzogiorno ti chiede come hai vissuto questo inizio di stagione a livello personale, insomma a livello di reparto invece è la sesta gara terminata senza subire reti. Casertana, Potenza, Bari, Cavese, Viterbese e oggi Palermo. Quanto sta crescendo l'intesa tra compagni e tra reparti e cosa sta funzionando maggiormente? Allora, personalmente ho avuto dei momenti difficili perché ho fatto degli errori che non devo commettere e che difficilmente commetto onestamente, però è stato un inizio di stagione non facile per me. Però consapevole che stavo lavorando bene, consapevole che solo col lavoro si può migliorare, non si commettono certi errori. Penso che ultimamente si stanno vedendo i frutti. E poi, come ho detto prima, finalmente siamo riusciti a lavorare di squadra per una settimana intera, cosa che ogni tanto male ce ne dimentichiamo, ma questa squadra da quando è completa ha lavorato due settimane sole. Tutto il resto ha giocato ogni tre giorni su campi difficili, su campi in cui troviamo squadre molto più preparate di noi perché stavano insieme magari da tempo, avevano potuto effettuare un ritiro estivo che noi non abbiamo fatto. Quindi sono convinto che possiamo solo migliorare. Solo migliorare adesso che arriva un periodo in cui finalmente giochiamo solo una volta a settimana e in settimana con il mister possiamo lavorare, conoscerci e trovare quegli automatismi che magari in alcuni momenti fino a qui sono venuti a mancare. Carmine Troisi, Tirefoggia, ti chiede se è la miglior prestazione stagionale del Foggia, secondo te, quella di oggi? Ma sicuramente è una tra le migliori, ma come ho detto prima, secondo me è stata una prestazione importante sia a livello tecnico, a livello tattico, ma soprattutto a livello di motivazioni che oggi il Foggia ha dimostrato che non voleva alibi, ma voleva dimostrare, un po' per Federico, un po' per noi, voleva dimostrare che il Foggia c'è. L'ultima domanda è di Luciano Gallucci, tuttocampo.it una crescita esponenziale del reparto difensivo, merito dell'amalgama tra difensori oppure o anche della forma atletica migliorata? Penso sia un po' di tutte e due le componenti, perché ne parlavo prima anche con i miei compagni, io finalmente capisco dove può arrivare un Anelli, dove può arrivare un Fumagalli, che sai, io ricerco automatismi che solo col lavoro le puoi trovare, quindi quelli adesso li stiamo trovando, chiaramente dobbiamo ancora migliorare, chiaramente c'è ancora margini grossi di miglioramenti, di conoscenza tra di noi e poi chiaramente anche a livello fisico non abbiamo avuto per niente tempo di lavorare, però con tutte queste partite sono convinto che stiamo mettendo una base solida anche a livello fisico.